La brindisina Sveva Cardinale Le misure coercitive sono ad opera del nucleo di polizia economico-finanziare della Guardia di Finanza di Brindisi, congiuntamente alla Procura della Repubblica, nell'ambito dell'operazione denominata Reservoir Dog, i cui dettagli sono stati illustrati questa mattina dal colonnello Pierpaolo Manno presso la caserma Bruzzi del Comando Provinciale. L'attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di svelare un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno di numerosissime vittime, e il cui capo è promotore del sodalizio criminale, avvalendosi della partecipazione di altri soggetti allo Stato, anch'essi indagati e rientranti alcuni di questi nella stretta cerchia dei propri familiari, individuava le vittime cercando di capirne i segreti più intimi, che venivano utilizzati per suggestionare gli stessi malcapitati, ingenerando loro dei pericoli immaginari e facendo credere che il capo dell'organizzazione avesse dei poteri mistici o paranormali. In questo modo era facile ottenere delle vittime con spiegue somme di denaro. La truffa ad oggi ammonta circa 4 milioni di euro che merito e moglie spendevano in viaggi all'estero patrimoni immobiliari e gioielli. Le fiamme gialle, inoltre, hanno sequestrato anche una polizia intestata alla donna di 125 mila euro. Le vittime che hanno sporto denuncia sono nove, provenienti da Lecce, Bari, Brindisi e da altre parti d'Italia, ma gli inquirenti non escludono la possibilità che il numero possa aumentare copiosamente nel corso delle ulteriori indagini. L'appello è questo, che se l'attività investigativa prosegue e siamo a disposizione di chi è stata, dal punto di vista di soggezione psicologica, sottomessa.